La settimana scorsa con Noemi brava Noemi abbiamo fatto un trattamento di ricostruzione della fibra capillare per far sì che il ricambio naturale del capello non si trasformi in un problema di caduta quello era il primo step, adesso procediamo con il secondo step che è una pulizia profonda della cute pulizia profonda della cute che viene fatta con lo scrub e quindi adesso andiamo ad applicarlo a scrubare scrub effettuato, adesso la cute di Noemi è super purificata ti senti sufficientemente purificata? mi sento molto purificata molto purificata il trattamento di scrub può essere fatto sia in salone che a casa perché è estremamente semplice farlo e adesso che abbiamo fatto il trattamento di scrub e che la cute è pronta Noemi continuerà a utilizzare a casa lo shampoo rinforzante e la lozione rinforzante per far sì che il ricambio naturale del capello non si trasformi in un problema di caduta l'hai visto subito? l'hai visto subito?